Ha parlato con gli imam ieri, che cosa vi siete detti? Beh, ci siamo detti che dobbiamo continuare in forma più esplicita. Hanno varcato la soglia della porta della misericordia mano nella mano Don Giovanni Brusegan, delegato per l'ecumenismo della diocesi, e l'imam Kemel Lajaci, nella casa di Dio insieme, per dimostrare che quel legame che ieri li ha uniti nella preghiera esiste da tempo. Ed è stata molto contenta anche la nostra gente, perché questo è il bello. Il problema non è il terrorismo, il terrorismo può diventare una provocazione a imporsi in un modo nuovo, cioè la crisi crea, come dire, rinnovamento. Una provocazione a cambiare, l'occasione per ritrovare un nuovo modo di essere una società. È la risposta dei musulmani del Veneto, 20 imam ieri a Padova, all'appello delle guide religiose dell'islam francese, fatto proprio in Italia. Oggi il pericolo è che gli enti statali, gli enti comunali, gli enti civili, ma anche i mezzi di comunicazione coltivino per motivi di business oppure per una mancanza di adeguata cultura del postmoderno, coltivino le paure ereditando voti o consenso o applausi. Ma questo deforma la realtà, rallenta il processo che è inesorabilmente in atto. Un incontro, quello di ieri, che Don Paolo Doni, vicario del Vescovo, ha definito profezia. Ed ecco perché, secondo Don Giovanni Brusegan, una moschea deve esserci a Padova. Certamente, dentro la legalità, con la possibilità di imam, che parlano italiano, e comunque vigilati. Questo favorirebbe, come è ogni religione.